Oh madonna, ma che è? Uuuuh Polizia La polizia! Arriva la polizia a fare queste cose! Cioè per dirci per quanto stava arrivando velocemente non l'avevo vista finire bene per nulla ma proprio zero. Oggi ragazzi toccherà fidarsi del processo perché vedremo video del genere. Video che inizia in una maniera un pochetto strana ma finiscono bene dai. E' passato da nerd a fuckboy. Ok, già praticamente da come gli ha fatto i capelli qua posso capire dov'è che stavano puntando con quella cosa vediamo. Uuuuh ok! Ma come fa una persona a cambiare di così tanto la faccia più che altro? Il fran gli ha anche rimesso a posto gli occhi effettivamente prima aveva gli occhiali e alla fine invece non li ha più avuti. Vabbè che esistono in teoria le lenti a contatto però ho visto troppi video brutti riguardanti le lenti a contatto madonna non le voglio vedere capito poi la battuta? Non le voglio vedere. Ok, una modifica per le calze. Già ho visto uno spoiler allora tecnicamente le ha tagliate a caso uuuuh che figata però allora vi posso dire che queste sono tipo le calze che non indosserete mai nella vita probabilmente. Non ci vedo nessuno camminare con sta roba tra l'altro mi sa che tagliando le calze poi si allargano con il tempo quindi è un po' tipo calze buttate una volta e basta lo indossate. Cioè nel senso perché cos'è? è più per un cosplay che altro però che figata ci sono veramente carine, molto cute nonostante tutto devo ammettere ok questa cosa qui è una delle mie preferite ovvero quando tipo vanno a fare il vaso e tirano praticamente questo filo e si vengono a creare le forme mamma mia che soddisfazione vederlo ragazzi. Tra l'altro sapete che c'è anche rilassante tipo ascoltarlo è molto una sorta di roba come ASMR cose così. Vediamo intanto com'è che finisce che sono curioso voglio vedere proprio l'ultimo punto oh bellissimo nooo me l'hanno rovinato io vi ti stai strappando la pellicina no che schifo mamma mia no bruttissimo adesso mi sto immaginando questo no ora mi fa impressione nooo odio internet maledizione. Ok una persona che sta tagliando quello che sembra essere un cilindro di rocce non lo so non ne ho idea cosa sta cercando di fare però non ho capito ok adesso praticamente è diventata una sfera normalissima e la sta allucinando da quel che sto vedendo tra l'altro vi posso dire che è molto bello nonostante tutto cioè voi pensate che l'ha preso da un blocco di schifo che era ed è diventato questo. Madonna è passato dall'essere un blocco di fango a giove a caso. Comunque è bello chissà quanto pesa ora che ci penso. Sarebbe un fermacarte molto pesante scommetto. Ok a quanto pare questa persona sta cercando di trasformare delle borse della Louis Vuitton in un vestito? Non lo so non ho ben capito. Vedete io non so come fa la gente a trasformare cose normalissime in altre cose come ha fatto? Regà vi giuro sembra legit questa cosa non ha senso ma dove ha imparato a fare questa roba in realtà vi dirò la verità sembra un pochetto tipo la busta dell'Ikea infatti secondo me con la busta dell'Ikea potete fare le stesse cose anche se la busta dell'Ikea è più tipo plasticaccia o roba del genere però guardate qua decisamente nice vi dirò non mi sembra originale però nonostante tutto così visto da lontano ci sta non è così male ha soltanto bisogno di un pochetto di formazione ma è tipo un disegno fatto da un bambino suppongo e sta cercando di ritrasformarlo giusto? Sicilmente quello che sto vedendo io finora è lei che sta colorando meglio quello che era colorato prima però va bene ma cosa è colorare bene ma ci rendiamo conto non era molto facile ehm sì tecnicamente ho fatto un paio di errori però sapevo che una volta che hai iniziato non puoi smettere e finalmente dopo 70 ore 70 ore ci hai messo? spero che vi piaccia dopo tutto dopo tutto era la mia prima volta vabbè da eh? hai fatto una mossa illegale in questo momento ok te lo posso dire mi hai decisamente bambuslato per dire alla fine la prima versione non è che era malissimo però effettivamente la seconda è un po' più carina e ma in un certo senso è trasformare questo qui è semplicemente ridisegnare da capo quindi non lo so vabbè però nonostante tutto è figo tra l'altro i doodle mi piacciono quindi molto bella come cosa ok vi posso dire che questa roba è una figata in un certo senso perché è tipo una romaca ma in realtà è un dispenser per il sapone infatti è stupendo anche se allo stesso tempo disgustoso e non funziona tra l'altro da quel che sto vedendo perchè? perchè non funziona? vai che ce la puoi fare sputa tutto quello che hai slumacala no basta lasciamo stare che più vado avanti e più peggiora funziona? uh ok eccolo finalmente è stato un parto tutto questo casino per farsi sputare sulla mano mamma mia lo facevo io se vuoi dai trasformo il mio ragazzo in me come fai? non sembra per nulla avete anche la forma della faccia diversa oh 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 chi è lei? non lo so più non riesco a riconoscerle in realtà adesso è il ragazzo ad essere lei vedete è lei che sta facendo il cosplay del ragazzo interessante la mossa epica che ha fatto col naso comunque non so se avete visto che gli ha tipo fatto una sorta di trucco falso geniale tra l'altro vi posso dire che ha l'aspetto da ragazza più britannica del mondo letteralmente cioè questo è come immagino sul serio una ragazza che ne so londinese e roba del genere in realtà il ragazzo un po' di più se devo essere sincero però lasciamo stare ok madonna questa casa è una tristezza questo appartamento quel che è mamma mia ok cosa sarei ah what non l'ho mai visto in vita mia un roba del genere bello è palesemente la stanza di una ragazza comunque tipo già lo sto vedendo ho visto tre cose e già posso dire che la stanza di una ragazza ecco questo me l'ha venduto letteralmente ok good vibes mamma mia basic ok vediamo il risultato finale attenzione wow ok figo allora da quel che ho capito questa qui dovrebbe essere la stanza di un dormitorio quindi non lo so questa persona che sta andando in qualche scuola o qualche posto del genere ok vi posso dire che i genitori probabilmente sono ricchi sfondati non soltanto che si possono permettere di arredare tipo la stanza in questa maniera che tra l'altro regà io vi giuro io sto messo quattro volte peggio di questo cioè praticamente c'ho soltanto letto armadia e scrivania nella mia stanza per capirci cioè io ve lo dico ho visto in vita mia dei dormitori e sono letteralmente dei buchi di due metri per tre quindi si questa qui è palesemente la figlia di Jeff Bezos non so che cos'altro dirvi ho creato questi dall'immondizia di qualcun altro ehhh ah oddio ha trasformato i cassetti in rob- uh 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 come hai fatto? no regà sono seriamente confuso come ha fatto? mi sa che ha sbagliato mobile regà non è possibile mamma mia beh oddio in realtà sembra ma che cavolo come hai fatto a coprire tutto quanto? nooo quindi è lei è una di quelli che vanno a fa' col ramen e li va a mettere chiù dei buchi cioè se ci pensate là dove ci stanno i pomelli dovrebbero esserci dei buchi e non ci sono più questo ha avuto palesemente a che fare con quei video tipo di 5 minutes crafts eccetera che tipo prendono i semi di girasole arrivano con la carta vetrata a caso e diventa magicamente parte del legno un mio cliente mi ha chiesto di progettargli la cucina e quindi è passata da questo ok che sinceramente è un'ottima cucina se devo dire la verità però ok uh wow mamma mia soldi beh si decisamente molto meglio di prima tocca ammettere però non è che ha cambiato soltanto la cucina madonna ha cambiato tutto ma dai si però senti qua mi arrivi con i mobili de marmo roba del genere ho capito e dai quanto mi è venuta a costa sta cucina 400 mila dollari quando la cucina di una persona costa più della tua casa vabbè lasciamo stare ok ragazzi vi posso dire che questa qui mi sembra decisamente una quantità di make up esagerata cioè che cavolo ci devi madonna ti ci stai lavando allora non so se le ragazze mi possono dire se questa cosa non è un po' esagerata perché a me sembra un po' troppo però vediamo un attimo che cos'è che ne esce fuori oh che è successo come fa a non dare fastidio tutto il fondotinta o quel che è all'interno della bocca mamma mia ma non lo sentite tipo non è che lo mangiate per sbaglio e cos'è così oppure mi sto sbagliando tra l'altro allora non ho mai indossato del make up ok quindi una domanda alle ragazze ma non sente caldo alla faccia madonna d'estate mi sembra tipo la morte questa cosa cioè in realtà oddio ora che ci penso mi sa che ho avuto a che fare con del make up una volta e una cosa che mi ricordo è che lo sentivo addosso cioè è come quando tipo realizzate che avete i vestiti addosso e tipo ve li sentite sopra così così oh fastidio la stessa cosa compro i miei tatuaggi per fare una sorpresa al mio ragazzo oh wow comunque guardate qua a parte il fatto che era riempita di tatuaggi e ora fa quasi strano vederla senza se devo essere sincero eh oh vedete che sa di appiccicoso quello che stavo dicendo prima no vi posso dire fa veramente strano quando qualcuno passa dal non essere tatuato che poi vi posso dire la verità vista così sembra una persona che dovrebbe essere tatuata ma non lo è ma sarà tipo la faccia non lo so perché ha un make up comunque molto prepotente no quindi fa quasi che strano se devo essere sincero ok vediamo attenzione oh scioccato dai panetti per favore perché? raga perché quando vedo una persona pelata penso a panetti non è possibile questa cosa dovrebbe essere illegale però beh purtroppo è così mi dispiace saluto panetti nel dubbio ma oh mio dio tra l'altro belli tipo i quadri che avete sul muro mamma mia posso dire che comunque la loro casa è tutta un vibe e poi gli piace molto it da quel che sto vedendo ok prossimo video voglio vedere lui con i capelli però adesso va bene il cliente puoi trasformarlo in un bagno ma cosa sarebbe madonna è orrendo da vedere comunque oh wow l'ha distrutto completamente oh ma che figata vi posso dire però non mi torna nei conti perché sembra un'altra casa letteralmente prima era molto più lunga invece adesso si è accorciata più andiamo avanti tra l'altro perché mi sembra che tipo il bagno sta fuori in realtà quello non è il bagno non è la doccia ma è semplicemente non lo so un balcone vi posso dire genialata mettere il bagno in orizzontale invece che verticale cioè nella mia testa il water deve sempre stare alle spalle al muro se così posso dire ok invece effettivamente per risparmiare spazio lo potete mettere così genio non ci ho mai pensato mamma mia ovviamente ovviamente ho trovato il commento su sta cosa perpendicular shooting ovvio quindi non sono stato l'unico ad averci pensato vedete ho fatto il mio secondo dipinto spaccando il vetro come? come diamine ci riesci? a parte il fatto che non sembra nulla in questo momento però allora raga voi dovete capire una cosa il vetro è una di quelle cose che si spacca a caso quindi io voglio sapere come diamine ha fatto però vi posso dire che sarebbe veramente una figata avere un quadro del genere a casa ma sapete che cos'è che preferirei ancora di più avere in casa? tipo dei quadri con gli ultimi video che sono usciti mamma mia sarebbe stupendo raga ve lo giuro immaginatevi tipo arrivate a casa mia e vedete tipo tutta sta roba sul muro bellissimo scommetto beh ok ok